Il festival di musica dialettale Chesamia a Gallo di Petriano è dedicato a Gianni Dmarin, nome d'arte per Giovanni Feduzzi che è qui con noi. Allora, Chesamia è una sua poesia? Sì, lo sai perché l'ho denominata Casa Mia, perché ho fatto torna di disvistere a Lausanna e allora il Gallo era qualcosa di straordinario e allora non c'era meglio di Casa Mia, nei libri, perché ho stampato migliaia libri, sono tutti sparpagliati, così. Perché scrive e recita poesie in dialetto? Che cos'ha il dialetto? No, adesso è una roba. Dire a una donna ti voglio bene da morire e dirgli ti voglio bene da morire per me c'è un abisso. La differenza è grande per me, enorme. E come musica? Eh? Il dialetto è come la musica? La musica, una musica favolosa vuol dire, favolosissima. Quando ha cominciato a scrivere? La ragione è semplice, i nostri genitori, i nonni, i bisogni, i bisogni, i bisogni, io non faccio che ereditare loro, i loro detti, le loro parole, con un'altra bocca sì, però dicevano loro, dico io. Quando hai iniziato a scrivere poesie? A Lausanna, sì. Il più bello a Lausanna, facevo il natuagliore, lavavo i vetri, grandi lì, al brivage, sopra la scala, prendevo un corno, un carnet, qui con la penna, mi venivano i rimetti, man mano che mi venivano per non dimenticarle, paura di dimenticarle, le scrivevo subito. E lì sono andate le mie poesie, da lì. Quanti anni ha? Io? Molti, 82, del 33, sì, sì. Ma faccio una vita? Sì, mi è venuta a mancare mia moglie, che era un'unione tanto stretta da morire, il 30 gennaio 2009. E quello lì, dopo il calore dei nipoti, delle figlie, mi hanno aiutato a vivere, ecco. E' tutto lì. Non so se non avessi avuto l'oro, l'oro se sarei qui o non lo so. Comunque ringrazio l'oro. Allora, buonasera a tutti i telespettatori di Tele2000. Siamo qui a Gallo di Petriano a festeggiare il nostro poeta Gianni Marini. Da un'idea di Massimiliano Casoli abbiamo ideato questo primo festival di dialetto, no, Massimiliano? Passiamo la parola a Gianni Marini, il nostro poeta. Dico che è molto bella, sto bene, ho un carattere aperto, sto bene tra la gente, è guai se mi rinchiudo. E voilà, così. Perché questa cosa? Allora, innanzitutto le nostre origini, abbiamo testimonianza delle nostre origini, solo grazie, lo sappiamo ormai tutti, non è una cosa che è dall'arte e comunque dalla cultura. Le poesie di Gianni ci parleranno del Gallo da qui a 300-400 anni avanti. Grazie, grazie. Quando uno vorrà sapere lo sviluppo del Gallo, magari dopo ci leggerà anche una poesia, il buon Gianni. Quanto è bella la neve. Casca la neve leggera alla rinfusa, viene giù tant'è che sembra che mi scusa. Se un, dieci, cento fio con bei, si posano lo cemento in i capelli. Tanta è la gioia in me che fiora le brezza, solo una madra è simile la caressa. Lì accasca il giardino di chi sta bene, lì accasca il cammino di chi sta bene. E tu non potremo stendere il suo mantello, facendo le parti precisi ma tutti uguali. E sempre a dem, gotta questa meravea, davanti al fuoco, c'è tutta tua famiglia. Grazie. Adesso che ora chiuda proprio a che vria concluda, che non c'è musica, non c'è poesia, più dolce e più che era da casa mia.